www.mariziofoile.it, siamo in estate, non mi ricordo quale generale dice che se volessero invadere l'Italia questo periodo qui di agosto sarebbe ideale perché non troverebbero nessuna posizione, a parte la battuta. Non voglio parlarvi del generale che c'è su tutti i giornali in questo periodo, ma voglio parlarvi di un altro generale, sì un altro generale, vi porto poi l'articolo qui di fanpage che l'ho trovato, dice ex generale esperto di intelligence truffato online per oltre 200.000 euro, un ex generale dell'intelligence dell'esercito italiano è stato truffato per 200.000 euro da un account falso online, quindi quello che intendo fare con questi video è di stare molto attenti, anche qui investimento 1000 euro, iniziamo a investire in bitcoin, c'è la sedicente imprenditrice si è stretto un legame sui social, ecco le tre esser che ci sono sui social sono solitudine, quindi soldi e poi la terza il sesso, sì sì queste tre esse che sono presenti, ma dobbiamo stare molto attenti, quindi sono diventati tra virgolette amici sui social e è incominciata questa sedicente imprenditrice cinese a proporre di investire piccole somme a questo generale di inviare questo denaro, questa piattaforma di investimenti questo pian pianino ha investito, ha fatto dei bonifici credendo di investire perché le prime volte ti arrivano anche gli interessi in questi fantomatici investimenti e ha perso 200.000 euro quindi questi video sono fatti per soprattutto anche in estate quando anche le difese si allentano sui social, stare molto attenti a chi si entra in contatto e poi verificare, verificare sempre si avvicinerà al mese dell'educazione finanziaria che è ottobre e noi ci teniamo sempre a dire che il gatto e la volpe è sempre in attività anche in agosto e cerca di accalapiare la vostra fiducia soprattutto il vostro portafoglio quindi con dei simpatici bonifici quindi la Consob oscura un giorno sì l'altro pure siti di trading falso di queste cose andate a vedere sulla Consob www.consob.it e verificate prima di fare un bonifico dove vanno i vostri soldi, i vostri denari sudati. Il gatto e la volpe è sempre in attività quindi attenzione quindi vi riporto l'articolo di questa truffa a questo generale esperto di intelligence tra l'altro dell'esercito italiano c'è scritto nell'articolo quindi tutti siamo potenzialmente soggetti a queste truffe le tre s e soprattutto in inglese grid questo lo aggiungo io personalmente il parere l'avidità alla prossima attenzione sui social dove mettiamo il nostro denaro www.consob.it